Siamo un'impresa oggetto di investimenti stranieri. Il nostro azionista di riferimento è straniero, questo viene spesso visto come attacco al Paese quando invece abbiamo bisogno di capitali per la nostra strategia. Lo ha sottolineato il vicepresidente di TIM, Giuseppe Recchi, intervenendo al convegno Crescita VS. Crisi. C'è la crescita economica, ha aggiunto concentrandosi sul tema del convegno, la vediamo crescere nei nostri ricavi, ma non solo non ci dobbiamo sedere, ma accelerare.